Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la prima maglia del Napoli in edizione Player. L'edizione Fan l'avevamo già vista e trovate qui in alto la recensione. L'edizione Fan l'avevamo già vista. La maglia del Napoli è molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Come detto l'avevamo già vista, ho voluto rivederla per capire quali erano le differenze. E devo dirvi la verità, secondo me, dal punto di vista estetico, questa e la versione Fan sono quasi identiche. Qui in alto vedete il costo, veramente molto vantaggioso. Peraltro vi ricordo che in descrizione c'è anche un link per ottenere un coupon di 3 dollari, quindi diminuisce ulteriormente. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito quale splendide maglie vi attendono. Prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, regalateci un grande like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per farci crescere ed avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Grazie a tutti.